Siamo a Taranto, quartiere zona San Vito, via San Vito e vogliamo mostrarvi una situazione tanto vergognosa quanto pericolosa dei pali per la pubblica illuminazione che nella loro struttura in cemento si stanno letteralmente sgretolando, cadendo a pezzi. Parliamo di questo e di altro con Irene Lamanna, presidente dell'Associazione Taranto Turismo. E' così, effettivamente questa è un'altra problematica del quartiere San Vito, ma un po' di tutta la città. Del quartiere San Vito parlo in particolar modo perché ricordiamo l'intervento del comune che ci denomina strade private, quasi tutte quelle di San Vito, ed entra in contraddizione con la pubblica illuminazione che già da 40 anni o forse 30 è esistente in molte di queste vie. La faticenza lo dimostra. Non solo i pali della luce, ma anche quelli del gas dimostrano che le strade sono palesemente pubbliche. Ma a parte questa parentesi doverosa, visto che ancora non abbiamo né fogna né acqua, è imbarazzante oltre che pericoloso assistere a questo scempio, a questo degrado dei pali dell'Enel. Quindi parliamo di alta tensione, parliamo di pericolosità per i residenti, per i cittadini, ovviamente per i turisti. E' altrettanto osceno presentare una passeggiata ai nostri ospiti e far notare a questi che l'amministrazione pubblica non veglia su quello che deve essere l'operato delle aziende private che sono presenti sul territorio. Grazie. 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 Grazie.